Il regno del kebab, piazzetta Perna 7-8, via Carducci, angolo via Piave, chiuso il martedì. Parliamo ancora una volta di fabbricati rurali, nonostante le tante informative, molte persone non si sono messe in regola e stanno arrivando diversi avvisi dall'Agenzia delle Entrate. Parliamo di sanzioni molto salate, di migliaia di sanzioni. Sì, infatti questo è il dato che abbiamo avuto ieri dall'Agenzia. Sono stati inviati ben 10.000, circa 10.000 avvisi di notifica di contestazione delle sanzioni su 5-6.000 particelle interessate. Questa differenza di numeri sta nel fatto che giustamente gli intestatari delle varie particelle sono anche due o tre persone, quindi gli avvisi sono numerovolmente di più rispetto alle particelle indagate. Cosa fare? Se si agisce adesso si riesce a ridurre di un terzo la sanzione? Sì, infatti, allegata all'avviso, c'è già un F24 precompilato dove c'è riportata la sanzione per ogni ita immobiliare pari a 352.75, che è la sanzione ridotta di un terzo di 1.032 euro, che è la sanzione vera e propria combinata agli ex fabbricati rurali. A questo punto c'è da dire però che non sempre tutto questo è giusto ed è dovuto. Molti di questi casi, già molti di questi proprietari hanno già adempiuto, hanno fatto la loro variazione catastale, quindi si sono messi a posto, però nel frattempo l'agenzia non è riuscita nella banca dati ad ottemperare la registrazione tempestiva e quindi sono partiti comunque gli avvisi. Questi sono dei casi, sono dei casi anche più banali di A e di fabbricati che non dovevano essere accatastrati eppure per questo sono partiti.